Resta ricoverato in prognosi riservata l'85enne di Montesarchio, rapinato al pari della sorella nella tarda serata di ieri da due banditi che hanno fatto irruzione nella sua abitazione, nel centro storico della cittadina Caudina. Durante il colpo, l'ennesimo nel sanno, i banditi non hanno esitato a colpire il pensionato, finito a terra dolorante. I malviventi hanno fatto irruzione all'interno della loro casa, mentre stavano per andare a letto. I due fratelli sono stati terrorizzati e minacciati dagli individui che erano riusciti ad entrare nella loro abitazione, dopo aver rafforzato un infisso. Mentre uno dei malviventi ha bloccato i malcapitati, l'altro ha frugato ovunque, fino a trovare alcune centinaia di euro ed oggetti nono. Subito dopo sono scappati, probabilmente a bordo di un'auto guidata da un complice. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri di Montesarchio. Dopo un periodo di relativa tregua sono tornati infatti in azione i banditi che ormai da mesi terrorizzano sia la zona Caudina che la valle Telesina. Quest'ultima teatro di violente rapine mai registrate prima nel Sannio. A partire dall'episodio di Frasso de Lesino, dove quattro ragazze e due adulti, genitori di una di loro, erano state le prime legate e presi in ostaggio gli altri picchiati selvaggiamente da almeno cinque banditi armati con il volto coperto da passamontagna. Grazie a tutti.